Giù la maschera. Gesù ci invita a toglierci l'ipocresia. L'ipocresia è un termine che deriva dal greco e era il teatrante, la persona che si metteva questa maschera, l'attore che si metteva questa maschera davanti al volto e recitava una parte, la sua parte, la parte del copione. È il lavoro, il mestiere dell'attore, di chi recita. Noi non siamo persone che recitiamo una parte, noi siamo veri e dobbiamo essere sempre più persone vere. Non recitiamo la parte di chi ha fede, di chi crede, non recitiamo la parte di chi cerca di assumere un aspetto particolare o si comporta in modo particolare perché certamente ha bisogno di dimostrare in chi crede o in chi spera. No, Gesù non ci sta. Gesù chiama questi atteggiamenti ipocrisia e ci vuol togliere dall'ipocrisia. Chi assume un atteggiamento ipocrito, cioè mettendosi davanti al volto o tutta la sua persona a una maschera, riceve la sua ricompensa, i suoi applausi, quello che lui cerca. Noi non cerchiamo il consenso degli altri, noi vogliamo convertire il nostro cuore, vogliamo fare su serio, vogliamo crederci profondamente, vogliamo vivere la nostra esperienza con il Signore in modo vero e autentico. Se poi questa autenticità che ci conquista, che cambia la nostra vita, diventa una bella testimonianza anche per gli altri, tanto bene, però deve essere vera, prima per noi. Gesù passa dal plurale al singolare, se avete ascoltato le ragioni di Matteo. Dice, tu invece, tu, loro, hanno già ricevuto la loro ricompensa, sono arrivati già, possiamo dire, a quello che cercavano, al loro obiettivo. Tu invece, tu invece. Allora questo qui è il tempo di fare su serio, è sempre tempo di fare su serio, ma è un tempo di grazia, la quaresima, per fare su serio, per rivederci dentro, vedere il nostro rapporto con il Signore, con la fede, con gli altri, con la preghiera, con la carità. Come va? Come va? Come mi sento? Come sta andando? Dentro di me? Che cosa cerco? Dove sto andando? Eh, sono domande che già Sant'Agostino si faceva, si interrogava così, profondamente, con queste domande. E questo è il tempo. Il tempo dove noi siamo chiamati a rivedere la nostra vita e la nostra vita di fede. Ma per quale motivo? E questo percorso che noi iniziamo questa sera, ci porta al cuore della nostra fede, che è la Pasqua. E noi siamo i discepoli del Signore risorto e vivo. Sarebbe triste, e lo è, molte volte nella nostra vita, che noi, ecco, non dimostriamo, o meglio, non si vede che siamo questi discepoli del Signore risorto. O meglio, per primi, eh, tornando a quello che è l'invito della parola che ci fa, per primi, non avvertiamo questo, non sentiamo questo. Eh? Che il Signore è vivo. Ed è vivo nella mia vita. È vivo. E io sono il suo discepolo. E sono il suo testimone. E per questo non è che devo rivedere la mia vita, la mia fede. Devo rivedere come sto andando, dove ancora devo crescere. Cosa devo togliere? Cosa deve cambiare nella mia vita? Magari piccoli passi, però una Pasqua dopo l'altra, possiamo dire anche una Quaresima dopo l'altra, e ci aiuta. E qui, allora, abbiamo bisogno di intensificare la nostra preghiera. Non è tanto uno sforzo che noi facciamo, c'è anche questo, un impegno, eh, possiamo dire. Però abbiamo bisogno di chiedere questa luce dal Signore che passa attraverso la preghiera, il pregare, l'entrare profondamente in intimità con il Signore, senza paura, senza timore. A tu per tu. Che bello. E Gesù ci stacca dagli altri, anche qui, e c'è tu fai. E poi, l'elemosina, la carità, l'attenzione all'altro, ai bisogni, le necessità dell'altro. Le mie mani sono ancora chiuse, sono mani che si tendono verso l'altro o rimangono inattive, chiuse, un cuore chiuso, uno sguardo cieco, miope, che fa fatica. È l'elemosina. Dice l'apostro Giacomo, che perdona una moltitudine di peccati, quanto io ho e non riesco a donare. Il digiuno. Il digiuno richiama la morte. Per vivere bisogna mangiare, bisogna nutrirsi, ma in tutti gli aspetti, eh, non solo quello fisico. Invece, Gesù ci invita a digiunare, a sentire dentro di noi anche il peso della morte. Noi iniziamo la quaresima con un segno, con un gesto, l'imposizione delle cenere sul nostro capo. Dice la liturgia, un segno austero, povero. E si possono usare due formule. Ricordati che sei polvere e polvere tornerai. Oppure convertiti e credi al Vangelo. Certo che le cenere ci richiamano, possiamo dire, non solo la penitenza, ma quello che diventeremo anche polvere. E allora, questo ci fa pensare, è che la nostra vita a volte e a volte sembra che così ce l'abbiamo in mano. E invece, è molto fragile. Una vita, la nostra vita è sempre fragile. E che la nostra vita ci porta ad incontrare il Signore. E allora, ecco, vogliamo, ecco, questo tempo anche riflettere su questo. Possiamo dire che quel digiuno ci richiama anche questo. L'aspetto, per esempio, della nostra vita. L'aspetto della morte, come la morte di Gesù. Perché mediteremo in questo tempo di quaresima anche questo. Per arrivare, certo, alla risurrezione. Ma, il riprendere la vita piena nella risurrezione. Ecco, allora, anche la dimensione del digiuno diventa una dimensione importante. È vero che noi siamo i discepoli del Sione di Sorto. E quindi, possiamo dire, siamo i discepoli dello sposo. Non saremmo chiamati a digiunare. Però, lo sposo, in questo tempo, è come se ci fosse tolto. È il famoso già non ancora. Sappiamo, ma ne avvertiamo anche la fatica, oppure l'assenza, anche se c'è. E allora, il digiuno ha anche questa dimensione. Ecco, si digiuna, certamente, per una crescita. Non tanto per far soffrire la nostra persona, ma perché c'è anche una crescita. Non possiamo avere tutto. Non possiamo possedere tutto. Anche se vorremmo avere tutto. E anche nelle rinunce c'è sempre una crescita. Ora, possiamo dire che Gesù nel Vangelo ci dà tre percorsi importanti, certo, che ce ne possono essere altri, ma questi vengono sottolineati dalla parola. per camminare in questo tempo di quaresima, per dare inizio a un percorso nuovo nella nostra vita. Che Gesù nel Vangelo accompagni questi giorni attraverso la sua grazia e ci aiuti nel rinnovare in modo serio la nostra vita e la nostra vita di fede.